Facemmo conoscenza da Sago, il mercante di quadri da cui avevamo comprato la fanciulla con un testo di filo. Cos'hai per lui tutto l'inverno, 80 volte. Alla fine cancellò la testa, mi disse che non mi poteva più guardare e partì di nuovo per la Spagna. Era la prima volta dopo il periodo blu e appena tornato dalla Spagna dipinse la testa senza avermi rivista. Mi diede il quadro ed io fui, sono tuttora soddisfatta del mio ritratto. Per me sono io, è la sola mia replica in cui sono rimasta sempre io. Tutto un libro è così, interessantissimo. Chi volesse veramente conoscere profondamente la nascita di questo genio spaventoso che ha segnato... Torni di voi... Torni di voi... L'opera di apprezzare... No, 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 non da tre velo chiesa... Dovrei pensarci... Però è bello anche questo effetto così... E' bello, è molto... Grazie. Grazie.